E adesso guardate queste immagini. Si tratta di un centinaio di rondini che ha iniziato a volteggiare a bassa quota. Da alcune di queste si sono aggrappate i muri delle abitazioni, come vedete in questo video. La scena non è passata inosservata ai residenti, infatti chi ha ripreso il momento ha raccontato che questo episodio si verifica praticamente ogni anno come una sorta di saluto a fine della stagione estiva per poi migrare in altri luoghi caldi del pianeta.